Musica Buongiorno, ben ritrovati per il consueto appuntamento quotidiano con la stampa Occhio ai giornali, naturalmente prima di fare questo il santo del giorno e le previsioni del tempo Oggi giovedì 4 giugno, San Quirino, Vescovo, il sole è sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.46 Postazione meteo di FanoTV, vediamo le temperature vicine, vicinissime ai 20 gradi E un'umidità del 81%, quindi insomma sensazione ancora più accentuata di calura per l'alta umidità Cielo sereno, terzo, nessuna nuvola all'orizzonte Vediamo cosa ci dicono invece gli amici della protezione civile Per oggi giovedì 4 giugno, il cielo è sereno, poco nuvoloso Però per il transito di alcune velature, però non ci sono precipitazioni E le temperature sono in aumento Vediamo venerdì, anche qui sono scomparse le velature E quindi sono rimaste però un attimino un po' più consistenti sui rilievi Però sulla costa vedete tre bei soli pieni e quindi cielo sereno, poco nuvoloso Debole, debolissima attività, cumuleforme sui rilievi Precipitazione di brevi e isolati rovesci, pomeridiane però soltanto sui Monti Sibillini Vedete nella parte bassa delle Marche Per sabato, primo giorno del weekend Anche qui lo schema si ripresenta simile E quindi cielo sereno, poco nuvoloso Debole attività, precipitazioni assenti e temperature stazionarie Quindi insomma andiamo almeno sulla carta verso un weekend di sole Allora ieri è stata la giornata del Carnevale Fanese Il Carnevale più antico d'Italia, più dolce d'Italia All'Expo di Milano, vetrina internazionale Il mondo intero, occhi puntati sul Carnevale e sulla provincia E su Fano Quindi insomma una giornata importante E vediamo appunto nelle pagine del resto del Carlino Per quanto riguarda la cronaca di Fano Trasferta a Milano Applauditissime le esibizioni Tra migliaia di turisti incantati e sorpresi Vedete l'allegria della musica arabita E i colori del Carnevale Sfilare nel Padiglione Italia La banda arabita ha conquistato l'Expo 2015 Protagonista la bella provincia All'esposizione che affascina con i suoi prodotti di qualità Protagonisti appunto e la Coldiretti Ha portato in mostra all'esposizione universale Ben 150 produttori Lo ritroveremo un po' in tutte le testate L'argomento Expo Rimaniamo intanto per quanto riguarda Fano Le pagine del resto del Carlino La politica dopo le elezioni Appunto chi va e chi viene Minardi invece rimarrà fino a giugno Anche se eletto farà il presidente del Consiglio Comunale Prima sarà approvato il bilancio Poi andrà in Consiglio regionale 5 Stelle su una sanità Dicono scelte condivise Il PD ci ascolti E poi sempre gli stracci del dopo voto L'ex sindaco Stefano Aguzzi Ultimamente molto attivo sui social Ne ha per tutti E quindi ringraziamenti ironici E stoccate sarcastiche Invece Fratelli d'Italia Per Baldelli Non eletto pur avendo avuto 4.851 voti La legge è incostituzionale Appunto Fratelli d'Italia Affila il coltello Per presentare il ricorso Finiamo le pagine del resto del Carlino Per quanto riguarda Fano Si presenta in così Il degrado del circuito Marconi Malumori Tra coloro che sfruttano la pista Del quartiere Trave È stata protagonista Questa pista Enzo Marconi Durante appunto il weekend Per Coloriamo la vita Il weekend scorso Tanta allegria Tanta gioia Però Grazie agli amici dell'Avis Però ecco che Lo stato di degrado della pista Crea malumori E poi Un festival importantissimo Per la nostra città Dal 17 al 21 giugno Passaggi E la ricerca Di giovani volontari E la ricerca di giovani volontari Rimaniamo nel resto del Carlino Però ci spostiamo a Pesero L'operazione importantissima Portata a termine Dalla Polizia di Stato Con l'arresto Trovati I razziatori di rame e di alluminio Operazione sull'asse Pesero San Marino Recuperati Ben 50 quintali Di materiali preziosi Tra rame e alluminio Che fruttavano bei soldini All'organizzazione I tre sono qui Ecco vedete Piccola multinazionale Addirittura tra i denunciati Un rom Un campane Un milenese La malavita Non ha confini E poi Il bel gesto Che sicuramente Va enfatizzato Perché Da prendere come esempio Trova Alla tombaccia Di Pesero Un portafogli Con ben 1000 euro Dentro E la signora Ha pensato bene Di portarlo Alla Polizia Il quale lo ha restituito Al Legittimo Proprietario E il questore Antonio Lauriola Che punta molto Su questo concetto Che Il cittadino Deve essere Parte attiva Anche il prefetto Tiene molto a questo concetto Nell'ordine pubblico Come segnalatore Come sentiera Come partecipazione attiva Insomma L'ha voluta gratificare Invitandola appunto In questura Rimaniamo Ultima pagina Che prendiamo In considerazione Penultima pagina Per il resto del Carlino L'estate è arrivata Viste le temperature E allora Si ripresenta Il problema Dei trasporti Come andare Al mare Le multe Sottomonte Eccetera Al mare In navetta Non con gli scooter Parte Da sabato Il colgamento Gratuito Per le spiagge L'appello Dell'assessore Soprattutto Sottomonte Dove parcheggiare Appunto Come vi dicevo È pericoloso Quindi un appello Ai più giovani Perché insomma Quelli Sono tratti Ad alta densità Di traffico E alle volte Succede L'irreparabile L'obiettivo Under 30 Non sono Appunto Utilizzati Soprattutto Da adulti Invece Noi Vogliamo Rivolgerci Anche Ai ragazzi Che Utilizzano Lo scooter Come mezzo Di locomozione Per andare Al mare Vista la facilità Per parcheggiarlo Appunto Vi dicevo Chi va e chi viene Dopo il voto Sulle regionali Siamo Siamo nel comune Di Pesaro Ricci Prende tempo A valutare Il rimpasto Per gli assessori Siccome Biancani Andrà in Regione Bisognerà Sostituirlo Anche lui È al lavoro Quindi Le ipotesi Bartolucci Come presidente Intanto Andrea Nobili È pronto Per Ricoprire La carica Vacante Finalmente Con Ceriscioli Parla Tagliolini Abbiamo uno che Conosce i problemi Degli enti Locali Quindi insomma A livello Di Regione Cambiamo testata Andiamo nel Corriere Adriatico Pesaro Anche qui Centro pagina Scoperto Il tesoretto Trafugato Dai banditi Sequestrati 500 quintali Di metalli Pregiati Denunciata Una gang Di 8 persone Il questore Li appella Come appunto Spietati Spiaggia Per i cani Non c'è Ma le proteste Già Serpeggiano Si era parlato L'estate scorsa Di una spiaggia Anche su Pesaro Dedicata Agli amici A quattro zampe Non è ancora In essere Questo progetto Quindi già I malumori Si fanno sentire Per questa mancanza Del litorale Pesarese Fanno la pagina Del Corriere Adriatico Vi dicevo Tutti Le testate Enfatizzano Questa giornata Di grande Visibilità Della provincia E della città Di Pesaro E del carnevale Expo Meraviglia universale Noi Vi ricordo Che Nella giornata di ieri Abbiamo avuto Due dirette Una nel pomeriggio Durante la prima Sfilata Alle 5 E poi Una finestra Nel telegiornale Occhia a Notizia Dove abbiamo Mostrato Il finale E anche Il compiacimento Del primo cittadino Di Fano Per questa E della carnevalesca Per questa Bella visibilità Che speriamo Ci porti un po' Di turisti Anche internazionali Sfila il carnevale Sfila il carnevale Però Il presidente Della camara di commercio Un po' Al vetriolo Sul presidente Della regione uscente Spacca Ha penalizzato La provincia E dopo vedremo Anche perché In un altro titolo Di un'altra testata Del messaggero Fanno protagonista Il sindaco Seri È a un passo Dal cielo E lo possiamo immaginare Ci siamo impegnati Per mesi Con un lavoro Di squadra Insieme alla regione E al comune Ancora Le state Appunto In calza Ci sono tutti gli eventi In calendario E Un tema Che sarà caldo Quest'estate Sarà Corte malatestiana O dove Si faranno Gli spettacoli Eventi Parla appunto Marchegiani Dice Metterò D'accordo I commercianti Marchegiani Sul contenzioso Nato per lo spostamento Degli spettacoli Nel cortile Di Sant'Arcangelo Ecco Diciamo che non è soltanto Una guerra Di commercianti Quella Tra Sant'Arcangelo E Corte malatestiana Le oltre mille firme Raccolte E depositate Tempo fa Che noi vi abbiamo Fatto vedere Anche nel nostro Servizio Di Occhio alla Notizia Sono mille Oltre cittadini Comuni Insomma Che ci tengono Che la Corte malatestiana Venga rivalutata Non è soltanto Un fatto Commerciale Certo È importante Però Ecco È un moto Proprio di Cittadini Ancora Parcheggio Selvaggio Fiocca la prima Raffica Di multe Sono Non solo Le cattive Abitudini Estive Se nei primi Tre mesi Dell'anno Le sanzioni Ammontano A 221 mila euro Quindi Sosta selvaggia Non è una cosa Soltanto estiva Ma avete visto I numeri Sono impietosi I primi tre mesi Dell'anno Oltre 200 mila euro Di multa Allora Fanno Le pagine Che riguardano Anche la Val Cesano Prendiamo in considerazione Quello che avverrà Nel fine settimana Fragole e Fagiani L'estate Si accende In questo articolo Di Silvia Falcioni Tre giorni Dedicata Alla tradizione Gastronomica Locale Sono pronti 300 esemplari Che finiranno In In Padella Per La gioia Dei gourmet E quindi Una notizia Che ve la faccio vedere Che desterà Sicuramente Qualche malumore Sarà possibile E sterminarle Dall'alba Al tramonto Fino al 30 giugno Parliamo delle nutrie Un mese di caccia Le nutrie Ordinato L'abbattimento Seriale Ancora Altre testate L'ultima Testata Il messaggero Che vi facciamo vedere Regione La politica In primo piano I rebus Da sciogliere Giunta Ceriscioli Incontro domani Il segretario Del PD Comi Possibile Esterno Sanità O bilancio Casetti Maura Bora Fondi europei Casini Alle infrastrutture È un po' Il toto Il toto Assessori Poi Sgarbi Vuole fare Il sindaco Di Milano L'assessore Dice Non lascerò Urbino Per legge Non c'è contrasto Tra i due ruoli Quindi Sgarbi Assoppiglia tutto Nella foto Notizia L'Expo Beffa Però La bella Provincia Ecco come vi dicevo Dopo vediamo L'articolo Il meteorologo Anche qui Giorni di sole E gran caldo E abbiamo visto La partenza Sicuramente Di oggi Non è bassa Siamo già A 20 gradi Allora Ve la faccio vedere Subito La notizia Dell'Expo Che è questa Ecco una beffa Della provincia Perché Perché Pur essendo stato Un successo La giornata Della provincia Pesarese A Milano Tra eccellenze Mancano quelle artistiche Soltanto Lo spettacolo Saltato Lo spettacolo Dedicato A Rossini Però ecco Qual è la polemica Nel padiglione Italia Solo immagini Di Conero Ascoli E Loreto E il presidente Della camera di commercio Dice Non è stato Causuale Ma è una scelta Dell'ex governatore Quindi di Spacca Che ha voluto Penalizzare La provincia Di Pesaro E Urbino Però i sindaci Sono ottimisti Seri Un modo nuovo Di lavorare Ricci Fiducia Dopo le polemiche Bisogna dare fiducia Rimaniamo Nel messaggero Per quanto riguarda Fano Appunto Vi dicevo Negozianti E spettacoli estivi Scoppia la guerra Delle piazze Dopo la petizione Contrario al trasloco A Sant'Arcangelo Ecco quella favorevole I commercianti Ma non solo i commercianti Ribadisco Delle due zone Si disputano Le serate All'aperto Il vice sindaco Marchegiani Dice La corte malatestiana Repesterà aperta Comunque Tutto l'anno Vogliamo restituire Dignità Ad un monumento Fanese Questo La sua Intenzione E appunto Anche qui in basso Fagiani e Frago E torna la Sagra E per chiudere Un occhiello Qui un articolo di spalla Su un artista Fanese Carboni Premiato a Cuba Sergio Carboni Premiato a Cuba Con il dipinto Dei cinque eroi E poi Anche qui Un altro articolo Di spalla Che riguarda L'aeroporto Più vicino Il parco All'aeroporto Martedì Riunione Per il progetto Martedì Della prossima settimana Bene Questa era l'ultima notizia Che vi davamo Per questa rassegna Stampa Di giovedì Grazie per essere stati In nostra compagnia Un saluto anche a tutti Coloro che ci guardano In replica Occhio ai giornali Torna domani mattina Alle 7.30 Puntuali E questa sera Occhio alla notizia 20 e 30 Per l'informazione Sempre a vostra disposizione Il nostro portale E le pagine facebook Grazie E buon proseguimento Di giornata Grazie